La compagnia di Fulvia Manfrino, per chi non avesse seguito l'apertura di questa puntata di Gente che Parla, è una persona che è portatrice di una disabilità ma che si è trovata in queste condizioni, ci stava proprio raccontando adesso perché in Italia purtroppo si fa poca prevenzione. Io concordo con lei perché nella nostra rubrica dedicata alla medicina, qui all'interno di Gente che Parla, abbiamo avuto ospiti molti medici che insistono appunto sulla necessità di fare prevenzione. Lei Fulvia ci stava dicendo che nel caso suo tutto questo non sarebbe accaduto se effettivamente la parola prevenzione fosse stata adottata ma ancora adesso ci sono i problemi su questo ambito. Abbiamo in Italia delle bellissime leggi, siamo forse il paese che ne ha forse troppe ma purtroppo non vengono rispettate e questo rispetto della legislatività è una cosa che io tocco dappertutto, non solo in ambito sanitario, in tutti i rami. E' questo che mi fa una grande rabbia perché noi abbiamo delle leggi che non le utilizziamo oppure le utilizziamo male, non siamo informati, siamo disinformati completamente, è un altro ambito per cui la gente non è informata ma è quasi un voluto perché così non si chiede, così non si hanno i diritti, così non si conoscono le problematiche. E questo è un po' il mio messaggio principale. Lei Fulvia è molto battagliera e so che non esiterà a raccontarci che cosa è accaduto esattamente, cioè la sua malattia in che cosa consiste e soprattutto quando insistiamo sulla parola prevenzione, come attraverso magari quale tipo di esame si sarebbe potuto capire a che cosa un disturbo l'avrebbe poi portata. Certo, io sono portatrice di una deformazione diciamo piccola problematica alla colonna vertebrale congenita, di nascita. C'è la mia sorella, ce l'aveva anche l'altra sorella che l'ha scoperto in seguito alle mie problematiche. Loro non hanno fatto lavori usuranti, nel senso che è maestra d'asilo una, l'altra adesso è a casa. Io invece ho fatto un lavoro usurante perché in una terapia intensiva dove ci sono macchinari pesanti, dove ci sono bambini o ragazzi o addirittura adulti perché ne abbiamo tenuti anche fino a 30 anni, ci sono dei pesi, i pazienti devono essere sollevati, sono agganciati a tubi, c'è anche una situazione di mezza rianimazione alcune volte. Per cui se non ci sono gli spazi, se non ci sono i sollevatori, se non ci sono tutte le cose che normalmente dovrebbero esserci in un ospedale, tra cui gli spazi, gli aiuti, anche a volte avere una persona in più, perché io ho lavorato tante volte anche di notte da sola, mi è capitato anche di lavorare quasi 24 ore una volta e comunque pagare o non pagare non è un problema quello, perché tanto non vengono neanche riconosciute tante volte quelle ore lì, però è il fatto che l'affaticamento è continuo perché lo spazio è piccolo, perché la movimentazione di cariche è proprio una cosa che c'è sulla legislazione. E poi non sarebbe un lavoro tutto sommato idoneo per una donna, forse... In queste condizioni non è dato per nessuno, perché movimentarsi quando rischi sul paziente di farlo cadere, rischi di farlo battere, ma tu stessa sei costretta a fare delle movimentazioni che non sono corrette assolutamente, perché ti pieghi, ti torci e non ti puoi girare come devi. E qual era la malformazione? È una piccola malformazione congeni che hanno tantissime persone, è una sacralizzazione di una vertebra, cioè la lombare è inserita nel sacro in pratica, per cui è come se avessi... Una spondi l'olistesi? Quella è la conseguenza di quello che mi è capitato grazie all'affaticamento, ma il dramma è che una cosa di quel tipo, se uno conosce, fa prevenzione, ovvero ci sono proprio delle posture da prendere, bisogna conoscerle, bisogna fare degli esercizi, bisogna andare proprio nei centri, che ci sono, sono pochi ma ci sono, e farsi spiegare come movimentarsi, perché questo vuol dire anche farlo nella vita privata, non soltanto sul lavoro, è una cosa importantissima, perché una persona riesce a, come è successo per mia sorella, insomma tra due giorni e 54 anni, quindi mia sorella sta benissimo. Mentre lei da quanti anni... Io ormai, diciamo, dopo cinque anni di lavoro ho cominciato ad avere, ad accusare problemi, problemi che si sono sempre... Io ho fatto delle lastre logicamente, perché non potevo pensare di rimanere bloccata soltanto chinandomi su un letto, logicamente fai le lastre ma nessuno ti dice quello che c'è, addirittura la lastra data per normale all'interno di dove lavoravo. Questa lastra non è stata vista da nessuno, neanche il medico di... Ma io non ho problemi perché ho fatto delle denunce pubbliche che stanno andando molto male, ma molto male perché c'è un non voler affrontare la tematica, perché se aprono un capitolo per la sottoscritta viene fuori una cosa... Uno tsunami. Un tsunami, esatto, perché comunque l'80-85% delle persone che lavorano in ospedale hanno problemi di colonna, problemi di spalle, problemi di ginocchia. Ma la colonna è proprio l'elemento principale, è un rischio calcolato, ma se poi tu non... Quando una persona ti segnala io ho questo problema, faccio una lastra, non ti segnano nemmeno che la sacralizzazione di nascita, quindi doveva essere segnalata. Chi l'ha vista la lastra è stato zitto, volutamente, pur di non concederti magari uno spostamento, perché io non ho mai chiesto... In un ospedale di Torino? Sì, in un ospedale Regina Margherita. Infantile. Infantile, che poi si è unito col Sant'Anna, comunque è un ospedale, che dietro la storia infantile pensano che sia tutto molto più facile. Quindi lei è battagliere e sta andando avanti comunque... Sì, e da dieci anni ho dovuto aspettare, perché in questi anni di lavoro, diciamo dall'88 fino al 2002, io ho lottato, inserita nel lavoro, dove io non sono mai riuscita a uscire dal mio reparto. Dodici anni di richieste di trasferimento scritte, protocollate, dove nessuno mi ha mai dato risposta, sono stata minacciata perché scrivevo e protocollavo, perché raccontavo che c'era una legge, la 626 del 94, che nessuno rispettava, ma tutti gli ambiti pubblici hanno questi problemi, perché la legislazione non entra nella testa delle persone, non entra nella testa dei politici.